Grazie, grazie. Grazie mille, buonasera, benvenuti in questo bel capanone qui. Io devo dire che vengo a Selig sempre con grande piacere e emozione perché io ho cominciato a fare il mestiere del gabaritista proprio a Selig per caso, perché in realtà io sono uno che nella sua vita non avevo mai pensato a dire un giorno andrei sul palco a dire... No, io ho sempre fatto tutta un'altra cosa e devo dire grazie a quelli che hanno capito che io sono uno di quelli, come ce ne sono molti, poi in Romagna tecnicamente sono gli sparacass, quelli che stanno nel bar, capito, vivono nel bar, stanno tutto il giorno sul bancone dell'Agida a leggere il giornale, capito, così che un giorno si staccano qui. E io ho stato sparare nelle casse, parche, fanno la rascina stampa, li amasserei tutti, da più Montenegro, ecco, io appartengo a questa categoria, la categoria di quelli che è così, insomma, devo dire, per me il salto da dire delle patacate con gli amici a Selig è stato, sono due scalì, però io poi fra l'altro dico pataca, patacate, ma voi lo sapete cosa vuol dire? Avete visto la pubblicità di Valentino? Sì, capite? Seguite, patacate, allora, spiego, ah, qui a Milano patacca, un sinonimo potrebbe essere pirla, no? Pirla, mona, no? A parte che patacca può essere sia femminile che maschile, perché, allora, la patacca è la... come si... il buco della contentezza. Noi abbiamo questo sinonimo, hai capito? Invece il patacca, il patacca, ecco, tra l'altro qualcuno pensa che sia sinonimo di coglione. Patacca, no, è riduttivo, perché il vero patacca è il coglione che vuol fare i sboroni, capito? Quello che è, capito? Allora, o non ci arriva o trapascia, nella riga non ci arriva mai, capito? Lui va al bar, il bar, capito? C'è i blue jeans nuovi, prima di andarci si dà con la spazzola di ferro, qui per farsi il sceglio del pacco, dai in alto a sinistra fino in basso a destra, capito? Però, siccome è patacca, ci dà forte, ci fa il buco, capito? Passa dall'altra parte. Non gliela fai, è più forte di lui, capito? Allora io mi sono trovato, dopo una vita di lavoro, io sono uno che ho sempre lavorato, sono figlio di albergatori, di Riccione, quindi la Romagna, che penso che voi conosciate. Sì, dai, chi è che non è venuto a Riccione a spurgare, a sfogarsi? Sì, e poi dopo da grande ho studiato, ho fatto anche albergatore, ristoratore, e mi sono trovato ad un certo punto a fare questa cosa, e poi la gente dice, ah, il fanzato famoso. Allora, a parte che non ci credeva nessuno, io la prima volta che venivo a Zelic c'era della gente, clienti, fornitori, giacca, cravatta, normale. Dice, dottor Cevoli, abbiamo visto in televisione una persona che le somiglia da Matti, che è... Ma è anche la signora che veniva a stirare le camicie, non è la signora che veniva a stirare le camicie, no? Io, a casa, capito? Allora, una sera mia moglie ci fa, guardi stasera che c'è Paolo in televisione, ma dove va? Porta a porta. Era il 2002, ancora non era famoso, andavi in onda alle 11, in onda alle 11. Ma non lo potevano fare un po' prima che io la mattina... No, insomma, lo guarda, la mattina dopo arriva a casa, e mia moglie ci fa. Allora, ha visto Paolo ieri sera, ha visto? Ma sì, dai, trasmissione bella. Gli altri son bravi, dai. Ma Paolo non gli è piaciuto? No, ma Paolo deve parlare un po' più chiaramente, e se no non si capisce proprio... Aveva capito tutto, capito? Quindi, la vita a me mi si è stravolta, dalla mattina alla sera, mettetevi nei miei pari di uno che a un certo punto va in giro per la strada, lo fermano, perché sembra che quelli che vanno in televisione appartengono a un'altra... No, diciamo, non male. Io, fra l'altro, sono una persona che ha una famiglia, sono sposato da più di vent'anni, mia moglie lavora anche lei, mia moglie è in un altro settore, e niente, ha un atelier di abiti da sposa a Bologna, via Farini, 24H, www.toskasposi.it 051 22 23 50 Adesso, tra un mese, facciamo il 3x2, eh? Sì! Adesso, tra un mese, facciamo il 3x2, eh? Adesso, tra un mese, facciamo il 3x2, eh? Adesso, tra un mese, facciamo il 3x2, eh? Adesso, tra un mese, facciamo il 3x2, eh?